C'è tanto traffico nella vetta della divisione G di Serie B interregionale di Pallacanestro. Brindisi cade a Canosa, Avellino a Molfetta. Entrambe vengono immediatamente agganciate da Monopoli e Lions-Bisceie. C'è un poker allora in vetta con cinque squadre in appena due punti. Molfetta fatale per Avellino che dopo una lunga rincorsa aggancia gli avversari alla fine del quarto periodo prima di cedere per 77 a 67. 29 punti per Galle, il miglior realizzatore per i ragazzi di fabbri che si regalano una serata da incorniciare. Scivola Avellino, lo stesso fa anche Brindisi, K o a Canosa per 80 a 79. Brava la squadra di Menduto a capitalizzare il blackout offensivo degli ospiti nella parte finale dell'incontro che vede Jovanovic, miglior realizzatore con 26 punti, stoppato all'ultima incursione. Per Canusium da segnalare i 24 punti di Karavdic. A quota 20 ecco arrivare Monopoli, Corsaro a Mola per 83 a 66 con 17 punti di Aguzzoli e Lions-Bisceie che passa a Termoli per 80 a 67 in un incontro condotto sin dalle prime battute capace di esaltare Rodriguez, autore di ben 22 punti. A tallonare le quattro battistrada ecco Adria Bari che raddrizza in extremis il punteggio concorato. Nell'82-77 del Palacarrà si spiccano i 20 punti per Callara, capofila tra i ragazzi di console di ben 5 uomini in doppia cifra. Altro K o nel finale per Corato a cui non basta un Mariani da 23 punti. Soffre cestistica Benevento in casa dell'ultima in classifica Taranto, capace di vendere cara la pelle, ma sconfitta per 77 a 73 nonostante l'apporto del solito Giovana, 29 punti a referto. Si torna intanto subito in campo per il turno infrasettimanale. Brindisi riceve Termoli, testa coda Monopoli-Taranto. Mola di scena ad Avellino, Bisceie contro Benevento.